La manifestazione contro il rassismo, perché alcune comuni che stanno creando il rassismo hanno aumentato la tazza all'oggettivo di 500 euro, per questo non esiste. Noi diciamo ancora no, no a questa tazza che non è giusta, perché è solo per questi nuovi cittadini e la ripetiamo ancora no, è ora di chiudere questa faccenda, è ora di fermare questi indaci, perché non va bene così. Paghiamo le tazze come tutti gli italiani, però una tazza che guarda soltanto i stranieri è una tazza stranissima, è rassissima, noi siamo qui per dire basta. Se uno costruisce questo paese, noi siamo primi a essere davanti a costruire questo paese, perché è il nostro paese, noi abbiamo fatto la vita qua, però è una ingiustizia che stiamo riuscendo tutti i giorni, è quello che difenda dai diritti umani, devono mettere a tanto nostro a difendere questi diritti, noi dobbiamo comprare permesso di 6 giorni per stare qua, è un diritto nostro, dobbiamo comprare la residenza adesso, è un diritto nostro, dobbiamo comprare la cittadinanza, dove è scritto che la cittadinanza si compra? La cittadinanza ci sono degli articoli che le condivestano precisamente, perché dobbiamo comprarla noi? E perché non è più un diritto, è un merc da vendere, un merc da vendere, questo devono dirlo tutti, devono saperlo tutti, che sta sopra di noi, sa che la costruzione italiana non ha detto che la cittadinanza si vende, invece questi qua li vendono, perché? E i due primi che l'hanno fatto, e quelli che sono venuti dopo sono andati avanti, perché ci sono soldi che entrano, non guardano i diritti umani, non guardano i diritti dei cittadini, ma c'è che i soldi entrano. Grazie.